Quindi se il nostro team per dirli game GG Che ti ho scammato ieri Masha? Che ti ho scammato ieri? Ad altro mo che ci penso Ah boh C'è quando c'è bisogno del pool Tra il cornetto e il croissant E metto non la sapevo Io l'ho detta prova mia A mio parere l'ho detto Eh Ma se fosse corretto o meno non lo so Sai una cosa che mi farò del culo? Che io mo ho sede ma se io prendo l'acqua e me la metto qua E in 10 minuti si riscalda quindi ogni volta Hai pure alzata da una friga di pialla Mamma mia che tilto Ma mi compro un mini frigo Signore Emma Eh match up è difficile questo Mo il rion non sarà troppo complicato Però più andiamo avanti più sarà complicato Purtroppo 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 per un nuoi Spero che il team non perda Perché se il team perde qua è GG Buono un po' di dar croccata Non fammi male Ma contro lei forse buildare le scarpe sarebbe la cosa migliore Perché se faccio le WQ La siluro L'Everfrost non c'è senso buildarlo Non sarà contro lei Non è che prende l'Utansè Comunque mi spiega diretta Andiamo a guardare No che non potrebbe iniziare da rosso Come potrebbe iniziare da blu Ma che è più a rosso Signor Date Mi piacerebbe perché Gli hitto la tier Niente tier hitate Guess Nocturne botta Mi sa Buono Che possiamo anche approfittare per regallare O rimane in altro po' Non lo so In realtà Il recall non è proprio buono Le scarpe non possiamo farle Perché abbiamo le footwear Buongiorno signor Valerio E questo andiamo a pushare Sta una wave Vediamo HPL Così non ci potrà dare Quando abbiamo poco mana Se vuoi non può frizzare Perderebbe troppo Regalliamo La domanda è Se fare Chao Pira La domanda è se fare Everfrost o Ludenseco L'Everfrost contro il team Eh ci sta contro quel team Però assolutamente Che farei Farei Ludenseco Farei Ludenseco Into Feeble Winter Into Frozen Earth Questo è quello che farei La domanda è Perché giocare a LOL E cosa dovrei fare Valerio Metti in due Ma come cazzo Ma come cazzo I coreani fanno la corona Ma va Ma ti pado Buono Ha perso un po' Lei ha perso Per me però La wave non è manco così messa male Potrebbe essere messa meglio Però va bene Se si è doggiato la Q Forse neanche se ne è morto Lo sai Poi devo usare il TP No il TP era da usare Per forza Oddio Oddio Pensavo di essere esabbarato Buono 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 Bella Greg Ciao banana Il TP andavo usato Perché dovevo prendere vantaggio Infatti là Se non fosse venuto Nocturne Gwen La frisava con la wave Era morta Era morta Poi c'era Nocturne Mi ha fatto comunque uno per uno Il che non è male Io ho preso più axe di lei Però lì se non c'era Nocturne Gwen Era morta Cioè la lane La chiappava in casino di tempo Tocca a pushare la fast A wave Un po' senza cosa Non credo ci possa ingaggiare Footwear tra quanto 11 e 15 Vedo il buon plotting Il che va benissimo Vabbè Ce lo rubo qua Nocturne Rabotta Oh ma ti vuoi svegliare bro Boh Saffa Giorgio Quell'altro Buono Nocturne Rabotta Mi avevo dato la mano un po' Potrebbe tornare nocturne un colo ulti qua Per l'altro più ulti Il motivo comunque non mi aiuta Nocturne sta cancando top E bot muore Oh ma ti vuoi svegliare nocturne un colo ultimo Mi sarei morto prima Però Eh Greg ma Jax Non lo gioco più Ma Sto che mi stiamo giocando 1v2 Praticamente Cioè Zero draghi nocturne sta parecchio Upside Siacuto 0 Vedrai come carirà Siaco Orde Dei sovio Oh Abarth Ma svegliatevi morti Madonna Ma che è sto team Forca troia Demo Ah Altaneranti Nocturne Nocturne al drago Potete Tra 20 Perché non giochi più Ryze Ma lo sto giocando adesso Ryze Il motivo per cui non gioco più Ryze Ragazzi È perché Io devo giocare 1v2 Un matchup Nel quale Dove Dove Gwen non c'è il ghost E se il mio jungler Mi cancasse Sarebbe già vinto Capito? E invece Io devo giocare 1v2 Un matchup Del genere Senza senso Con un campione Che potrebbe fare molto di più Ma non gli viene fatto Perché il jungler Ha un evidente Handicap mentale Questo è il motivo Per cui non gioco troppo Ryze O altri campioni Simili a Ryze In top Per questo motivo Che la gente Non sa come cazzo Giocare E mi tilta Sta cosa La box Perché non l'ho messa? Kill force Hm Spopiniao Spopiniao Go Ho fatto challengersi l'altro ieri Oh Oh No Meta è inutile a mutare il clown Sto game non è nelle mie mani bro Io posso tiltare come posso non tiltare Non è nelle mie mani sto game Capito? E io posso anche perdere tutto il focus del mondo Non è nelle mie mani sto game Capito? Perché facciamo loot Enfibub Winter e Frozen Earth Che è buono anche contro Gwen per l'attack speed Almeno così abbiamo un po' di danno Glutenseco Andiamo Possiamo aspettare pure di far sorcery Per far trinket blue Allora ho la ulti Quindi se Gwen mi engaggia in teoria Dove riuscire a scappare Olè Facciamo pure scappare G-Pen Eh ti ho detto per quel motivo si ricarda Oh È la stessa onda? Non mi ricordo mica Fibub Winter acquisiamo un po' di tank Dopo il Fibub Winter facciamo Frozen Earth Che si lega insieme al Fibub Winter Perché abbiamo più mana Leggiamo l'attack speed dagli altri E prendiamo arma contro questi quattro Quindi è huge Sto' guarda pure un bel goccio di acqua Perché porca troia Ragazzi idratatevi Vabbè l'ho riletta Guarda che cazzo ci frega Vai Shaco fammi vedere Vai vai 20 pub bot Qui è leggero vai Carriate carriate Cochari cochari Bevi Eh state là l'acqua Se no avrei già bevuto Ok insomma Ciao Pippo Idratatevi Grazie Greg per preoccuparti della nostra idratazione Grazie a tutti Faccio sempre confusione A den e den Eh non è che non bevo L'acqua sta in frigo mate Mi devo alzare Prendere l'acqua Riposarla Eh cioè Vado half king game A sto punto Ah vedo che Il gankare mid Sta servendo molto Molto bene Molto molto bene Dio Pippo Com'è andata ieri? Che ci racconta? Ok già ho matto il Tato League Primo game Già ho tiltato Che i jungler Non sanno come cazzo Devo gioco a sto gioco di merda Porco dio Questo gioco è incredibile È incredibile Questo gioco Io devo giocare 1v2 In blind pick Uscire comunque Ben in lane E avere il team che perde T'ho salutato Chi è da appena Se è stato inizio Grazie a tutti Grazie a tutti Non sto a dormire che è importante Madonna Nate Prendi ancora dalle tue labbra Not a good thing Vado verso bot Guardate qua addirittura Questi c'hanno pressione e guardano qua La cosa non c'ha senso che stanno a fa' Vottaggio fucking Bello l'uscita Che cazzo è andato Hey that bitch Buono Lui ci sta a free farm Che è buonissimo Bene bene questo mi ritorno un bel po' C'ho Fibull Withers regallo Si sono giro ma non troppo Qualcun altro che ha problemi con l'ex Signor Sanchio Pansone Mi scusi Mucio Mi dai Ervuccio No Sanchio Grazie per il supporto Ed il benvenuto Nelle canne di canneser Welcome back No page Ma winnable Quali labbra Oddio ferir Domanda più che azzeccata Ma si questo game si può vincere Marcia Ma te l'ho detto Non è nelle mie mani capito Cioè finchè non Non vi do meno 3 item Non è nelle mie mani sto game Devo avere il team che mi porta avanti Fino che non faccio 3-4 item E poi riesco a fare qualcosa io Proprio come andrà sto game Che appunto no Quanti 3 che abbiamo noi Un drago no e un drago loro No tu ne è stato 3 volte topside E Shaco 0 È venuto solo al minuto 15 Ma è possibile abbiamo solo un drago E uno per giunto c'erano loro Eh Ulf Stai oggi Ulf Se non ha funzionato una volta Perché dovrebbe rifunzionare Non ho damage Vedrete 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 se non ho danno Poi tu mi dici Madonna Ma come faccia Sapete tutte ste cose Avevi un danno della madonna Con un build tanky Vedrà vedermit Magic Pender 2 in seco Magic Pender e Scarpe E più il mana di Ryze Che prende col Fibu Interface in arte Che gli fa fa danno extra Porco dince il cannone Drago 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 Scooby dooby doo Where are you Na 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 Ma come ha fatto Tu c'è chi la reguena What the fuck Goal 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 Lì Niente Niente Dove capire perché è rimasto lì Mortacci me Mi sono fatto tutto No non faccio Shaco se n'era andato Ovviamente Shaco non do andava via qua No 7 potano Rivanè Però beh Ma con il Nashor Il jk Nocturne ho trollato Niente Nashor Ma non possono farlo Non possono farlo Beh Potete provare ma è difficile La mia amica nella situazione non è facile Riguardo a cosa Di rimettersi con l'ex Ha una relazione a distanza Dice Ho bisogno di un consiglio Dal dio supremo La mia ragazza mi vuole lasciare Perché forse io devo partire per l'esercito Che faccio Eh mate Se la tua ragazza mi vuole lasciare Per una cosa del genere Se è una cosa che tu vuoi fare Fare l'esercito Mate Ti posso dire una cosa Finchè non c'hai un figlio Ok Ascoltami Finchè non è un figlio Devi pensare molto di più a te stesso E questa è una di quelle occasioni Nel quale devi pensare a te stesso Ti piace fare il militare Vallo a fare Non c'è nessuna ragione al mondo Che una persona ti stoppi a farlo Se non è tuo figlio Vai go Mate Se una persona non accetta qualcosa Che tu vuoi fare È egoista Capisci Vai mate Se te lascia Vuol dire che Nero quella per te mate Ma Poi non è pronta Come fa N'ha mai fatto Come fa a sapere che non è pronta Non credo di avere possibilità con lei Penso che stasera Gli vedrò chiaramente Prima di cosa Per una lunga Però Per un po' Per questo tempo Mate Sai Non è mai una buona cosa Quando tu sei sotto una persona Non è mai una buona cosa Cioè quando sei sotto Magari a un ex A qualcuno che pensi Che magari Una cerchia di amici O cosa Che sto dicendo Quando tu sei sotto Tanto sotto a qualcuno Tanto sotto E non nel senso che ti piaci Ci vorresti far Riuscire Baciarti così Ma tanto sotto Non è una buona cosa Metteteci insieme Se me lascio Mi trovo un'altra Da quant'è che stanno insieme 8 anni Ma tu quanti anni hai 57 Oh cazzo Massimo Pensa a te stesso Pensa a te stesso Tanto quando andrai a fare militare Che siete tutti maschi Sai pure che fate Sai pure che fate Pensa Trovi pure qualche esperienza Che bro Trastami Trasta a me Trasta a cane Cane questo non credo Lo farò Mettete Sei una persona limitata E debole Che qua Che qua Che qua Che muovi Abbiamo un saccoccia Oh Piasso C tua Twitch Come cazzo giochi Non l'ho vista Tio cane Non l'ho vista Ma c'è stato fino a qua Questa bastarda Manco l'ho vista Ecco come stavo Ecco che fanno Vabbè Devo pensare a me stesso No perché non provare No 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 Massimo Vabbè Ma quanti anni hai Quanti anni hai Raghi Cioè sono tornato L'Igitto E caco a spruzzo E Avizil Non te lo volevo dire Ma questa è una malattia È un virus È l'unico modo Antonio Grazie il follo È l'unico modo Che hai Per eliminare questo virus E mettete una mano un culo Perché devi andarlo Devi andarlo proprio a prendere Ne devo fare 23 cane E lei quanti ne ha? 12 Forse Forse è possibile Che non sia pronta la relazione 20 Quindi è pure più piccolina Diciamo che Allora Già le donne in generale La maggior parte Non tutte Però sono Tendenzialmente Egoistiche Egoiste Scusami Hanno un carattere egoistico Ma tu non puoi sapere Per cosa non sei pronto Mate Se non l'hai mai fatto Cioè Tu non puoi proprio sapere Per che cosa non sei pronto Se non l'hai mai fatto Mate Capito? Cioè dire Non mi sento pronta È una scusa Tu non puoi dirlo Non l'hai mai fatto Ci sta a 20 anni Che non vuoi avere una relazione a distanza Per carità ci sta Ma là di tranquillamente Non voglio avere una relazione a distanza A 20 anni Perché non mi scopri È un cazzi qua vicino Invece di non sono pronta Eh di la verità Tanto Il fine è lo stesso Quello della chasse No? Di la verità almeno E si sincera Bravo Darkmail Che vuoi? Un applauso? No Kid No 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 Sì Johnny Razz è un po' scarsino Però mi piace Per cos'altro Dove voler dire Non essere pronta Se Non vuoi avere una relazione a distanza Se tu ami una persona La relazione a distanza È l'ultimo dei problemi Semplicemente si vede Che non ami quella persona Punto Tu hai abbandonato? No Io mi sono diplomato In 5 anni Senza prendere un debito Senza prendere Bla 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 Tutte quelle cazzate E via Soslan 88 14 metri di squish per Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrm Grazie mille del supporter E benvenuto ai legali Cali cazzate Ciao Sostran Io da l'azione santa Per due anni Poi quando io ero A 1000 km di distanza Facavo il cazzo mi pare in tutti i sensi lì invece lì spero abbia fatto lo stesso nel peggiore dei casi uno a uno poi dal centro e stessi mi tratta di corna vicenda? boh e tra quanti anni avevi? pure sta cosa boh vabbè ma quello che cazzo mi pare oioioi oioioi muore scioco è bad qui non c'era lì distrago da Twitch distrago da Twitch lì signori e signori signori e signori it's not over yet the top king in self anch'era essi anch'era essi oh che poteva immaginare che poteva immaginare buono buono calma calma è sangue freddo è intelligenza grazie oddio sto per rompere lo schermo grazie grazie peccato nessuno nel bar non giocare in intelligenza eh forse potrò già lavorare meglio qua però eh prince si la vita del militare non è di certo una vita facile però lui adesso ha 23 anni sa quello che vuole fare e deve farlo comunque tu non puoi sapere che non sei pronto per una cosa se non l'hai già fatto ho provato a farla capito cioè tu non puoi saperlo proprio non puoi saperlo se tu lo dici è perché non vuoi provare a farla mhm provaci poi vedi che magari dopo un mese va male e che te costa c'hai avuto due anni di relazioni ma poi un mese in più che fai una relazione a distanza e non vuoi provare cazzo sei stupido eh c'hai un ritardo mentale eh per forza perché sennò non si spiega ho semplicito provavi già non avevi più già delle emozioni per sta persona e semplicemente sta cosa ti ha detto boh la lascio direttamente però mhm capito cioè hai un ritardo mentale perché non ho altre spiegazioni nuda e cruda oh chi poteva immaginare sono morto ma regà svegliate le freddi mortacci vostra ma tuiccio com'è morto stanno in quattro su di me ma che cazzo sta da fa' svegliate le freddi tutti svegliate le freddi tutti vedo che il sit-mid è servito eh grande set mettetevi in colonna così vuolta entrambi ma non è messo ma che noi sto game ragazzi sto game ci hanno mandato fuori dal game i loro e i nostri non ci hanno neanche inculato di pezza se i nostri avessero fatto un minimo di quello che hanno fatto loro in top sto game l'avevo già cariato invece no invece no e anche la merda nasce bello ma magari che ne so i dis-what-dis-quadon parte signor Vitto e' un fan ga-dei de-gai dei de-gai dei de-no de che stiamo parlando non ho capito how we lost the game eh how we lost the game se vuoto lo dico sapete gioca ma Twitch è stata Canemigna o non sbaglio? vedrai come vinciamo to-game Galonix grazie del follow e' del sub che cazzo dico follow? misplay grazie mille Galonix eri benvenuto per venturare un mese nelle cani di cane sir welcome back e' il signor Lohaker con da quanto tempo con 12 mesi di sub grazie signor Lohaker del supporto 12 mesi eri benvenuto nelle cani di cane sir welcome back nuovo BG anno ragazzi dovevi venire qua però ma che stanno a fare? ma che cazzo fanno? oh attiltà come un soian questi faresci la farà signor Mad grazie del 21 mesi eri benvenuto nelle cani di cane puttino grazie del follow termine sono BG scari hola 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 cambiamenti GP no mate come se sempre i cambiamenti li vedo solo quando escono ecco il comore vai aso ciocobot twitch c'è una scampia guarda qua li abbiamo la voodoo un drago su che è difficile, che è difficile chat andiamo andiamo dove vorresti morello eh mf sta qui via da qua amici, via da qua non ce lo facciamo stila vai qua set, porco dio vai qua, niente, niente e lui non vuole morello contro, boh, sustain yaso, sustain guany in realtà c'è ragione morello credo sia la scelta migliore c'è ragione nessuno di noi c'ha un healing e ci sente la scelta migliore per quanto sembra assoluto buona doccia kid io ormai la doccia me la faccio solo di notte perché sennò veramente c'è me la faccio prima tutto il giorno, inutile a burnout burnout non si scrive così comunque ho letto, ho letto adesso è abbastanza strong, si signor bion tier 1 settimo mese e adesso bella canna che si dice? bella luce e lupo, tutto bene tu che dici invece? devo push a meno la bot aspetta non morì, non morì non morì non morire non morire bro regaliamo adesso bot push per noi grazie signor bion tier 1 settimo mese benvenuto le cani cani sono welcome back ok no no, me lavo, me lavo pure troppo vedato E così era difficile eh Così si fa qualcosa Eh ma c'è Shaco che è morto Come un coglione capito C'è Shaco che mi piace morire a caso Voglio morire un'altra volta a caso Ma così per idea Morello ready No abbiamo per maglie le sira Servono troppo 950 bar Poi Twitch io non so che cazzo Il build strana ce l'abbia C'erco di fermarmi sempre I moni per le sire A meno così se ne callo ce l'ho subito Baron tra 11 Potrei di fare dentro il nascere e farlo Però è arduo perché se non lo facciamo instant Ma cosa sta ulti bard Possiamo ingaggiare Buono Uno vuole dopo è da andare Può c'è anche sta wave Così non può splittà Così non può splittà Oghi Sono bocciaste quelli di merda C'è l'header, l'header è troppo importante Qui non c'è a tp neanche Quindi non può venire a pusha qua Elder, elder Too good, too good Puscio pure la mid Eh lo so la base ma quello è troppo good per far queste cose MF ha perso la K Io so perso la K Grazie push a mid, push a bot è meglio, push a bot è meglio vai a far, vai a far doppio inibili è la cosa migliore huge 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 game 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 Minta, 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 minta Ridescariad, ah, Ridescariad Oh, mi chiede come ho detto Per 9 Rideset Ah, capito? Capito, per 9 Rideset, capito? Boh Capito Riportiamo Rides, riportiamo Rides Vabbè Boh Con un campione ti piace Poi sta build, ho trovato sta build che è veramente huge Perché fai sia danni, vedi sta MF quando ti abbiamo levato con i Q 1300, 1400 con i Q Cioè Va, 43k danni La semi-tank Quanto abbiamo tankato? Damage taken and yield No, damage taken Non manco troppo Shield Self-indicated damage 46k di self-indicated L'abbiamo fatto? Non male E questi che hanno scritto Fun when two more players Fun when two more players Non male Tutti Non male No male No male